Eccoci dunque con il pomeriggio di TG Com 24, già vedete lo studio di Roma, Luigi Galluzzo con il suo ospite che è Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, faccia a faccia. Grazie Luca Rigoni, buon pomeriggio, buon pomeriggio a Fabio Rampelli, ci siamo ancora qualche ora, ultimi comizi, poi domenica si vota domenica sera. Diciamo nella notte tra domenica e lunedì capiremo com'è andata, voi puntate alla? Noi puntiamo al miglior risultato possibile perché Pesca Ramanzia non diciamo quorum, un quorum, pensiamo di poter fare un ottimo risultato perché la campagna elettorale è stata comunque appassionata, noi ci siamo soprattutto fondati sul radicamento territoriale, sulla presenza in strada, sul dialogo con associazioni, categorie, cittadini, quindi certamente anche presenza televisiva, anche circuito massmediatico, però questo ci ha dato la possibilità di farci conoscere, in un'unica sia anche da apprezzare, devo dire che anche da parte degli avversari c'è una certa simpatia, apprezzamento, forse più che simpatia diciamo stima. Berlusconi ripete, uniti si vince, in realtà Forza Italia, Nuovo Centrodestra, Fratelli d'Italia vanno ognuno per proprio conto ancora. Sì, Berlusconi seconda un po' delle settimane, in alcuni momenti fa degli appelli che noi non abbiamo mai condiviso e in altri appunto fa l'ecumenico, io penso che quello che doveva succedere nel Centrodestra si è manifestato nella sua realtà e bisogna comunque prenderne atto, dobbiamo costruire un Centrodestra nuovo, fondato su una nuova leadership, dobbiamo lavorare per questo, se c'è il desiderio di ricompattamento in un'alleanza, in una coalizione, non intendiamo rinunciare al nostro movimento, così come per errore, secondo noi, l'Alleanza Nazionale è decisa di confidere nel popolo della libertà, è stato un errore. Cioè avete riacquisato il nome tra l'altro? Abbiamo anche riacquisito la denominazione e abbiamo insedito l'Alleanza Nazionale all'interno di quello di Fratelli d'Italia, quindi diciamo a tutto tondo rivendichiamo quella tradizione. Diciamo per chi se lo ritrova magari nella scheda, sa cosa è successo. Probabilmente se fossimo rimasti, come qualcuno di noi aveva indicato e suggerito nel 2008 un soggetto autonomo, avremmo avuto comunque una destra moderna, europea, con tante anime al suo interno, che comunque camminava per la sua strada, quindi il partito degli antilocati, dell'autonomia, del radicamento, della militanza, della partecipazione, che è quello che vorremmo essere a fianco magari altri partiti con altre caratteristiche. Non c'è bisogno di fare delle classifiche, chi è meglio e chi è peggio, sono sensibilità e caratteristiche diverse. A poche ore dal voto le chiedo che tipo di Europa avete in mente e chi vi vota, che tipo di Europa deve immaginare, in un momento in cui la Le Pen in Francia ad esempio dice vinciamo noi e cambieremo radicalmente l'Europa che c'è adesso. Ma guardi io penso che sia indispensabile la sincerità. Ora dobbiamo comunque ammettere che presidenti del Consiglio e ministri del Partito Democratico, di Forza Italia, del nuovo centrodestra, hanno firmato trattati europei che hanno impoverito l'Italia e che rischiano di mandarla al collasso, l'esempio che è ricorrente è quello del Fiscal Compact, il patto finanziario che ha stibuato l'Italia, ma anche quello del trattato di Dubrino firmato da Alfano, il nuovo centrodestra, è comunque una roba insostenibile per l'Italia nella sua possibilità di gestire... Stavate insieme un po'. No, quando lui era vicepresidente del Consiglio e ministro degli interni, noi stavamo all'opposizione, saldamente all'opposizione. Detto questo, penso che le persone che io ho citato, i partiti che ho citato, se pretendono il voto degli italiani dovrebbero almeno chiedere scusa, perché comunque il rapporto tra Italia e Europa è un po' problematico. Ma anche Beppe Grillo è un distruttore dell'Italia, è una persona che comunque sottolinea positivamente i fischi all'ino di Mameli e si ricollega alla tradizione del Partito Comunista Italiano, penso che si commenti da solo. Cosa vi distingue da Grillo che ha una posizione altrettanto critica dall'Europa e dalla Lega? Cioè, diciamo, Grillo, Lega, non è che amano molto l'Europa. La sensazione è che Grillo voglia sfasciare tutto, noi non ci stiamo perché vogliamo bene all'Italia e pensiamo che bisogna lavorare per costruire uno scenario di speranza, di fiducia, certo, bisogna saperlo fare anche con energia e con determinazione, cosa che non è accaduta negli ultimi decenni. Noi siamo di fatto ostaggio della Germania di Angela Merkel, che comunque sta nel Partito Popolare Europeo, Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale è uscita dal Partito Popolare Europeo perché è comunque condotta da una leader del Partito Popolare stesso, che comunque è tedesca e la Germania è la principale protagonista in negativo dell'attuale andamento dell'economia europea, in particolare di quella italiana. Quindi penso che sia indispensabile, da questo punto di vista, andare in Europa con energia per chiedere, rivendicare, pretendere di rinegoziare tutti i trattati. Quello che ha promesso Renzi, bisogna dire per onestà. Renzi proprio oggi ha ribadito, noi vogliamo andare a rinegoziare tutti i termini, insomma ha compreso il vincolo del tre persone. Intanto lo ha detto la Renzi in maniera, quindi lo ha detto e non lo ha detto. Quindi qualcuno, qualche osservatore attento, ha interpretato il suo pensiero e ha voluto fargli un regalo dicendo che questa è l'intenzione del Partito Democratico e di Renzi. Però io dicevo poco fa che ministri e presidenti del Consiglio, o del Partito Democratico o sostenuti dal Partito Democratico, hanno firmato trattati che sono venuti che noi vorrebbero andare a rinegoziare. Sì, ma non si può stabilire una cesura totale nei confronti del partito, del proprio partito di riferimento che peraltro lo vede anche impegnato nel ruolo di segretario nazionale. A proposito di Renzi, dice che gli 80 euro sono solo un inizio, nel 2015 andranno anche a pensionati e partita IVA. Sugli 80 euro, quale dei nostri pennarelli e cartellini darebbe? Il rosso, il giallo e il verde a Renzi? Sugli 80 euro? Sugli 80 euro il vostro paga, insomma chi non può il suo cavallo di battaglia. Dunque, guardi, rosso tutti e tre. Rosso perché è una presa per i fondelli, non c'è la copertura finanziaria, lui dichiara che comunque ci sarà addirittura non soltanto per il 2015 ma per tutta la vita. Verde perché nessuno può essere contrario a 80 euro in più in busta paga per 10 milioni di italiani. Se ci fossero. Se ci fossero. Rosso perché non ci sono, rosso perché c'è una crisi economica, è la prima volta che si vede un governo fare dei regali in regime di austerità e di povertà. Diciamo così. Giallo è la speranza, anche se dovrebbe essere verde, ma insomma nel gioco dei semafori il verde l'abbiamo già utilizzato, che sia un po' più attento alle reali esigenze degli italiani. Gli italiani vogliono tante cose per carità, però la prima in assoluto vogliono che un governo e una persona che ha delle responsabilità pubbliche siano autentici, che dicano le cose come stanno. Sono stufi di essere presi per i fondelli. Nessuno ha chiesto a Renzi di regalare soldi a quattro mesi dal suo insediamento al governo. Nessuno gliel'ha chiesto. Quindi perché lo fa? Tutti quanti sappiamo che siamo in una crisi economica nazionale e internazionale difficile. Io credo che nessuno abbia la pretesa di avere dei soldi in più in tasca. Ci basterebbe che le cose funzionassero meglio, che i servizi funzionassero meglio e che si possa innescare il meccanismo virtuoso della crescita e dello sviluppo, che è l'unica cosa di cui abbiamo bisogno. Prima di lasciarci, anche i Vescovi fanno un appello per votare, andate a votare, dicono il partito degli indecisi potrebbe essere il primo partito in realtà, domenica. Anche noi ci associamo a questo appello, lo apprezziamo, anzi perché penso che sia davvero importante andare a votare. Non c'è nessun atteggiamento rivoluzionario per rimanere a casa con il telecomando in mano a guardare la televisione invece che recarsi a fare il proprio dovere dei cittadini. Bisogna semmai dare una spallata a coloro i quali non sono stati all'altezza di rappresentare le nostre istanze, i nostri bisogni e le nostre aspirazioni. Certo, attenzione a come si vota, perché se ci si fa incantare dai pifferai che in questi giorni, attraverso i talk show, attraverso gli appelli, attraverso la conferenza stampa che ha fatto Renzi stamattina, che è davvero una cosa scandalo, ma no, ma non si fa. Se si ha un ruolo istituzionale bisogna fare attenzione anche a dividere le acque, fare quello che è necessario. Cappellino rosso per Renzi. Rosso, rosso, perché non penso che non sia corretto. Se si fa il Presidente del Consiglio bisogna comunque avere la sobrietà prima del voto di non mettersi a fare propaganda. Cioè, braccialetto tricolore, pelle, che è quello di Fratelli d'Italia, no? Braccialetto tricolore. Guardi, noi in questi giorni, che vorrei concludere così, esatto, abbiamo dato vita a una manifestazione in tutte le città d'Italia. Abbiamo srotolato dei drappi tricolori, alcuni lunghi, persino 300 metri, che l'abbiamo fatto a Roma, l'abbiamo fatto a Caserta, oggi lo facciamo a Torino e in Piemonte. L'abbiamo fatto con drappi un po' più corti. Perché vogliamo rappresentare la necessità di investire sull'Italia, di volerci bene, di essere orgogliosi della nostra partenza, senza di andare appunto al cospetto anche della Germania, della grande Germania, senza nulla da nascondere, a testa alta. Quindi abbiamo bisogno di un'Italia che faccia di stare anche questo. Grazie Fabio Rambelli, Fratelli d'Italia, ci vediamo domenica dopo il voto.